Top 10 Passiamo ora a Top Video Il video da voi caricato su www.liscio.uno più visto nella scorsa settimana Il video dell'orchestra New Tropical con Dolce Metà Ora scopriamo chi si trova nelle prime 5 posizioni 5 DJ Berta con Sei Tumo e Das 4 Rossella Ferrari e Casanova con Il Canto del Mar Al terzo posto c'è Omar Codazzi con In Silenzio Al secondo posto c'è Bagutti, Lambertini, Lanteri e Tarantino con Siamo l'Italia che balla Primo posto per Amami Amami Eseguita da tutte le orchestre e portata al successo da Milne Celentano E' nata Radio Liscio 1 La radio ufficiale italiana della musica da ballo Scarica subito l'app La puoi trovare gratis per iOS e Android Radio Liscio 1 Inimitabile Appassionata Proprio come te